Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo appuntamento tre temi verranno affrontati, ecco i titoli. Parleremo del diritto e più che altro del disegno di legge ZAN che passa con una mozione a maggioranza. Poi si parla anche degli aiuti e dei sostegni statali, anche se le regioni dichiarano zona rossa, una risoluzione della Commissione Aria Interna e poi Toscana Terra accogliente, le residenze artistiche che si aprono al teatro. La giunta si deve attivare affinché la proposta di legge codiddetta ZAN venga discussa e votata in Senato. Quanto prima lo chiede una mozione presentata dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle che è stata approvata in Consiglio regionale con il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia e Lega. L'atto di indirizzo chiede alla giunta di attivarsi anche per istituire quella che può essere una giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. Solidarità invece a margine nei confronti della giovane di Castelfiorentino Malica che è stata vittima le scorse settimane di discriminazione di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori, non tollerabile nella Toscana, culla di civiltà. Così è stato dichiarato con una risoluzione a sostegno di Malica proposta da Italia Viva che è stata approvata con voto unanime dal Consiglio regionale della Toscana. Grazie ai colleghi del Consiglio regionale. La Toscana tutta, il Consiglio regionale esprime solidarietà a Malica per quanto è successo perché vuole metterla nelle condizioni di sentire il calore delle istituzioni toscane. Tutti i partiti politici presenti in Consiglio regionale hanno accolto il mio appello quello di fare un atto forte del Consiglio regionale che esprimesse solidarietà alla Malica quanto persona e in quanto tale è in grado di esprimere la propria sessualità, il proprio orientamento e allo stesso tempo fare un atto che impegnasse la Giunta per mettere in campo azioni di sostegno qualora necessarie a favore della ragazza per consentire a lei, come a tutte quelle altre situazioni che si possono verificare nella nostra regione, di esprimere la propria libertà, i propri sentimenti, la propria sessualità e soprattutto la propria libertà. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è terra di libertà e come tale. Questo è un atto importante, è il primo atto pubblico che un Consiglio regionale fa in questa direzione e mi auguro che ce ne siano anche altri di sostegno a favore di tutte quelle persone che magari possono essere discriminate ingiustamente per il proprio orientamento sessuale. Io ho sentito la discussione in aula e ritengo incredibile che alcune componenti politiche che da una parte votino e promuovano il sostegno e la solidarietà a una persona che è stata vittima di aggressioni per ragioni dovute all'orientamento sessuale e nello stesso tempo dichiarino come i loro leader Salvini e Meloni che una legge contro l'homo lesbo bi-transfobia, perché è qualcosa di molto più complessa, e l'abilismo non sia una priorità, ritenendo che in questo momento le attenzioni debbano essere tutte concentrate su legittimamente la questione dei vaccini, dei ristori e delle riaperture. L'informo che le commissioni sono differenti e che uno Stato che si ritiene tale che tuteli i diritti di tutti deve saper portare avanti tutte queste istanze nello stesso tempo. C'è stato un bel dibattito, devo dire, in cui si sono confrontati davvero due modi di pensare. Chi ritiene che debba essere scontato, perché la Costituzione già lo dice, che non si debba discriminare e quindi che un DDL, una legge su questo, sia ultronea e chi invece, proprio partendo dalle cronache, dice che non basta l'affermazione di principio, è necessario attuare quei principi con leggi specifiche che stigmatizzino certe condotte. Io sono intervenuta proprio per sottolineare questo, cioè come sia indispensabile stigmatizzare condotte e comportamenti e come non si possa nascondersi dietro l'ipotesi del reato di opinione. Dice, ah ma si rischia di punire le opinioni. Beh, insomma, le opinioni che davvero istigano la discriminazione, che istigano l'omofobia e la transfobia, beh, possono essere legittime, possono essere anche trattenute per sé e non necessariamente espresse, a fomentare dibattiti o fomentare condotte di spiriti fragili, di anime deboli, di menti deboli che non sanno affrontare la diversità e che di fronte alla diversità reagiscono con la violenza, con l'odio, spesso un odio nascosto dietro le identità virtuali dei social e dei mezzi di comunicazione che non chiamano in causa direttamente il confronto. Ecco, quindi mi è sembrata importante la coincidenza dell'approvazione di questi due atti, la solidarietà a Malika e una richiesta ufficiale di intervenire concretamente in questo delicato settore. Abbiamo votato fermamente contrari perché riteniamo che sia una proposta di legge, un disegno di legge non solo strumentale, non solo anche pericoloso, ma soprattutto assolutamente inutile in questa fase storica. Noi abbiamo fatto gli ultimi due consigli regionali barricati dentro il palazzo, mentre fuori in strada c'erano decine e centinaia di lavoratori che chiedevano ristori, chiedevano aiuti, non mi pare che ci fossero fuori migliaia di persone a chiederci di approvare il DDL Zanna. Diverso invece è il caso di Malika, a cui va tutta la nostra solidarietà, tutta la nostra vicinanza. È folle, è vergognoso, è assurdo che nel 2021 ci possa essere qualcuno che si arroga il diritto di giudicare un'altra persona in funzione dei propri orientamenti sessuali. Dispiace ancora di più quando questi sono addirittura i genitori. Quindi a Malika tutta la vicinanza, la vicinanza nel giorno in cui purtroppo rilevo che Malika è caduta nella trappola di chi la vuole strumentalizzare politicamente, visto che mentre noi le esprimevamo solidarietà lei sui social attaccava Giorgia Meloni. Vabbè, mi dispiace che si sia fatta strumentalizzare da questo. La invito a venirci a trovare in Consiglio regionale, mi piacerebbe confrontarmi tanto con lei. Zone rosse, zone arancioni e anche zone gialle. Nel caso in cui siano le regioni a dichiarare in funzione del contenimento del contagio la zona rossa, alcuni territori siano previsti in modo chiaro quelli che possono essere appunto in questi territori i meccanismi di aiuto a sostegno statale in favore delle attività produttive e commerciali che ricadano in quei territori. Infatti il Consiglio regionale della Toscana, che chiede con una risoluzione della Commissione Aria Interne, preseduta a Marco Di Colai del Partito Democratico, che impegna di fatto la Giunta regionale ad attivarsi in questo senso, nei confronti sia del Governo che del Parlamento, sollevando la questione anche nella conferenza delle Regioni. Ascoltiamo. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio perché il Governo Draghi ha previsto in modo, diciamo, più dettagliato la possibilità per le Regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto. E chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico e quindi il Presidente di Regione giustamente le ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il Governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra Regione. Si tratta di quasi 100 comuni che in queste ultime settimane sono state interessate, ci sono piccole imprese che hanno quindi sofferto una situazione ancora più pesante rispetto ad altri territori e chiaramente tutto questo si amplifica nelle zone interne e montane, dove ci sono dei problemi preesistenti alla pandemia e adesso magari l'applicazione di misure restrittive doverose, necessarie, ma che devono essere accompagnati da meccanismi di ristoro chiari e definiti. E solo il bilancio dello Stato ha la capacità di farvi fronte in modo adeguato come chiedono, appunto, questi territori. È anche una richiesta che sta facendo altre Regioni oltre alla Toscana. Queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne, marginali e montane. Noi abbiamo un esempio con la montagna pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia Rossi per molto tempo regionalmente, quindi le attività della montagna pistoiese, già venendo da due annate senza aver fatto niente, si sono trovati veramente in condizioni disastrate. Quindi abbiamo votato all'unanimità questa Commissione. Speriamo che il Governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali e quindi che la Regione li destini in particolare a queste zone interne marginali. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza a Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo che i fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di Commissione, che nelle impegnative qualche volta si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al Governo centrale. Lasciamo i lavori dell'Aula per dedicarci anche a un progetto che è stato presentato proprio all'interno del Palazzo del Pegaso, un progetto di rete che potenzia il meccanismo delle residenze artistiche della Regione che operano in otto province, con il coinvolgimento di più di 80 spazi teatrali, 65 comuni toscani, e che quindi propone un'azione diffusa in tutto il territorio della nostra Regione. La Toscana diventa così terraccogliente con gli artisti e offre loro occasioni per valorizzare il lavoro. Si tratta di un progetto unico a livello nazionale per il numero e le caratteristiche di tutti quei soggetti che vengono coinvolti, è rivolto al sostegno di nuove produzioni artistiche, teatrali e a loro circuitazione. L'iniziativa di Toscana Terra Accogliente, con l'ospedalità delle cinque compagnie vincitrici della prima edizione del bando teatrale nei teatri proprio delle residenze, è stata quindi, come dicevamo, presentata all'interno del Palazzo del Pegaso. È un bellissimo progetto culturale della Regione Toscana e sono molto contenta di presentarlo oggi, che siamo così affacciati sulle prime riaperture della settimana prossima e sul riavvio delle attività culturali. Ci piace l'idea di presentare un'iniziativa che è un segno della resilienza e della resistenza di questo territorio e devo dire resistenza e resilienza ci rendono umani insieme alla cultura. Io sono molto grata agli operatori che l'hanno resa possibile, alla rete di tutte le residenze teatrali, i centri di produzione, le compagnie che hanno lavorato a questo progetto che porterà in scena cinque compagnie avincitrici del bando per 25 repliche complessive con quasi 200 ore di residenze teatrali. E devo dire che è un risultato straordinario in un momento così difficile, è un bel messaggio che vogliamo mandare oggi dal Consiglio regionale della Toscana a tutta la Regione e a tutto il Paese, perché è vero, questo periodo ci ha messo a dura prova. Il Covid ha fiaccato lo spirito in molti frangenti, ha reso impossibile lavorare, ha immiserito il nostro tessuto, ma ha anche suscitato un bisogno di collaborazione, una voglia di lavorare insieme, un bisogno proprio di darsi manforte che sta producendo i suoi frutti. Ecco, Toscana Terra Accogliente è il primo, ci piace presentarlo oggi, in questo momento così importante per il mondo della cultura nella fase della pandemia e della sua fine, ci auguriamo presto. sottolinea una grande tradizione pionieristica di attenzione alla residenza teatrale e ai centri di produzione, ma anche un'apertura sul futuro, perché vorremmo che questi luoghi fossero sempre di più e vorremmo che la dimensione della cultura come luogo di espressione, luogo di lavoro, luogo di creatività e non solo di ricreazione, che è l'elemento ultimo della fruizione dei cittadini, fosse più evidente. La cultura è lavoro, lavoro per decine e decine di persone che abitano questo territorio e che lo rendono più ricco e bello come è. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale, nel senso che mette insieme i centri di residenza, dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Sieni e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera, gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. In quest'anno pandemico abbiamo dimostrato come residenza una grande vitalità, uno approfittando di tutte le occasioni di teatro in presenza, dall'estate passate abbiamo trasformato paesaggi urbani, paesaggi naturali anche grazie ai festival che sono patrimonio della nostra rete in grandi momenti di teatro insieme alle comunità. In più abbiamo fatto una grandissima attività in remoto tramite il digitale e i sistemi radio-televisivi, anche con alcune radio-televisioni che qui intervistano e in più abbiamo mantenuto gli obiettivi prefissati con Regione e Ministero nel 2019 rispetto alle residenze temporanee, che è l'oggetto della conferenza di stamattina. Una delle cose che mi è mancata di più in questi mesi, in questo anno, come a tanti cittadini e a tanti cittadini della Toscana è quella di poter riuscire ad ascoltare, a incontrare, a crescere anche grazie al lavoro delle imprese culturali. Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giacchi, che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo in questi primi mesi di legislatura, abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri effetti della pandemia. A breve uscirà un bando, sappiamo che è una goccia nel mare, sappiamo che servirebbe di più ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo per dare una risposta, un sollievo, ma soprattutto per dire che con la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare e di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e ai cittadini della Toscana. E con il progetto Toscana a terra accogliente si conclude l'appuntamento con il Consiglio. Vi ricordo per tutte le informazioni c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it Vi aspetto come sempre 4-7 giorni dentro il Consiglio. www.consiglio.regione.toscana.it www.consiglio.regione.it